14 milioni di euro stanziati dalla regione Abruzzo ma anche questa volta nessun accenno a CarEnergia, famiglie e imprese accuse dall'opposizione alla maggioranza per un altro maxi emendamento per fondi a pioggia proposto appunto dalla maggioranza della regione. Oggi è giorno di consiglio e commissioni, il centrosinistra è pronto a dare battaglia con un emendamento che istituisce un fondo per fronteggiare sul CarEnergia i maggiori costi sostenuti da imprese e famiglie con una dotazione iniziale destinata a salire degli anni. Questa volta ci misureremo non solo con la mozione già respinta a settembre ma con un vero e proprio emendamento di 93 milioni di euro che ha i pareri favorevoli dal punto di vista tecnico sul tema caro bollette per imprese e famiglie. Basta prenderci in giro, le famiglie attendono, le imprese aspettano risposte da questa regione. Marsiglio prima se la prendeva col governo e adesso che il governo non ha dato risposte sufficienti addirittura se la prende con l'Europa. Si deve assumere le sue responsabilità. Molto duro Domenico Pettinari dei 5 Stelle che si dice disposto ad organizzare grandi mobilitazioni di cittadini. Inoltre si stanno raccogliendo le firme per un consiglio straordinario che abbia come unico punto all'ordine del giorno le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la regione. Noi abbiamo chiesto una misura emergenziale come è stato fatto nel periodo pandemico per contribuire con contributi a fondo perduto per imprese e famiglie per sostenere e pagare il caro bollette. Ecco loro purtroppo hanno previsto tutto tranne questo fiondi a pioggia, fondi a denti, ad associazioni, istituzioni culturali. Non c'è nulla ad oggi sul caro bollette. Quindi noi abbiamo annunciato, stiamo facendo battaglie, continueremo a fare battaglie in commissioni, in consiglio. Ma il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri rimanda le accuse al mittente. La posizione ha il diritto di dire ciò che vuole. Non ci sono fondi per caro bollette. C'è un emendamento che malleva tutti i costi energibili di impianti sportivi che hanno una grande valenza sociale come le piscine. Non ci sono fondi per le famiglie. La parte più importante della manovra sono i costi per garantire il trasporto pubblico locale efficiente in tutta la regione, per mallevare le difficoltà delle nostre marinerie a lavorare, per completare importanti opere pubbliche che attendono come la pista ciclabile della costa dei Trabocchi. Quindi sono emendamenti che hanno un alto valore sociale e che toccano i temi che lei ha citato. Poi ognuno fa la sua parte e dice ciò che ritiene.